Buon mercoledì a tutti, oggi è mercoledì 9 dicembre 2015, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV sul canale 17 per la rassegna stampa Occhio ai giornali che come sempre comincia con il santo del giorno, oggi è un veggente, quello che viene ricordato dalla Chiesa Cattolica, un veggente di Guadalupe, San Giovanni Diego, il sole è sorto alle 7.29 tramonterà le 16.31, vediamo subito il tempo per oggi, mercoledì cielo nuvoloso con nuvole basse in particolare lungo la costa, le temperature senza variazione di rilievo, per domani giovedì 10 dicembre ancora cielo nuvoloso con presenza di nuvole basse, le temperature in lieve aumento, attenzione alle nebbie, alle foschie durante le ore più fredde, il resto della settimana continuerà ad essere caratterizzato dalla presenza dell'alta pressione che renderà la situazione poco evolutiva, dunque un periodo monotono anche dal punto di vista del tempo. Allora, ieri il Papa ha aperto la Porta Santa, ha dato il via dunque al Giubileo della Misericordia, anche nelle Marche è stata aperta una porta, quella della Casa di Loreto, la Santa Casa, è una casa che accoglie con la grazia, ha detto l'Arcivescovo Giovanni Tonucci, l'Arcivescovo che tra l'altro è di origini fanesi. La Misericordia ha il suo faro a Loreto e il suo portabandiere l'Arcivescovo Tonucci è l'intervista che potrete leggere sulla pagina delle Marche del Corriere Adriatico di questa mattina. Poi la cronaca invece da Fano, è stato investito da un kart, è grave, il titolare Sauro Costieri attraversava la pista di Torrette a Fano, è intervenuto il 112, ricoverato adesso in prognosi riservata, il titolare del kart show lungo la statale 16 Adriatica, il civico 307 di Torrette di Fano, dove appunto ieri c'è stato questo brutto incidente. Un incidente è avvenuto lunedì sera, la pista offre un servizio noleggio di go-kart, era regolarmente aperta ed un gruppo di ragazzi si stava divertendo a bordo di queste piccole macchine da corsa, sfracciando nel percorso delimitato da sparti traffico rossi e bianchi. Dunque, poco dopo le 19, appunto questo brutto incidente ha interrotto l'atmosfera festosa della serata. Poi sul Corriere di oggi si parla di un altro schianto avvenuto a poche decine di metri, forse qualche centinaio di metri a dire il vero, dalla rotatoria dove qualche giorno fa ha perso la vita un uomo di 78 anni. Siamo sempre in via in Audi, a Bellocchi, un incidente ieri mattina intorno alle 9.05 dove appunto una Citroen Picasso si è scontrata con un autocarro. Poi c'è anche il racconto di un altro incidente di un 17enne fanese che appunto viaggiava a bordo di un'ape ed è finito fuoristrada. Poi però c'è sul quotidiano, sui quotidiani questa mattina c'è anche un'altra notizia di cronaca che tra poco andremo a vedere, un uomo che ha minacciato di buttarsi da un terrazzo nel quartiere di Fano 2, intanto però andiamo a vedere la rassegna sempre del Corriere. Siamo sulla pagina di Fano, Fano ferita da Ecomostri e Abbandono, le brutture della città nel libro del fotografo Paolo Delbianco, responsabili delle ultime tre giunte comunali. Quali sono queste tre brutture pubblicate sulla pagina del Corriere? Innanzitutto l'ex mulino Albani, lo segniamo con il rosso, l'ex mulino Albani si trova sulla statale adriatica, siamo vicini alla stazione ferroviaria. Poi abbiamo il campus scolastico, eccolo qua, credo che qua dentro ci sia addirittura una palestra, siamo al campus scolastico vicino al cemitero centrale, vicino alle scuole pedagogico, eccetera. Poi sotto invece abbiamo l'altra bruttura, secondo il libro di Paolo Delbianco, il cantiere, il cantiere edile che è stato bloccato dalla società Polo Holding e che si trova a Gimarra di Fano, all'ingresso nord della città di Fano. Queste sono i tre Ecomostri segnalati nel libro di Paolo Delbianco. Poi dalla pagina di Pesaro invece del Corriere, i poveri sono in aumento e ci sono anche molti italiani, la Caritas aiuta più di 700 indigenti, il direttore dice molte famiglie al limite della miseria assoluta. Siamo sempre sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, negli ultimi anni le richieste sono in crescita dell'85%, i sussidi economici sono le prestazioni più frequenti e nella fotografia vedete anche il direttore della Caritas, Angiolo Farnetti, mentre a sinistra gli operatori nella sede fanese dove le richieste di aiuto da parte di indigenti sono notevolmente aumentate. La pagina invece di Pesaro per chiudere il Corriere Adriatico si occupa delle tasse, meno tasse a Pesaro e più risorse e risorse invece per gli investimenti. Parla l'assessore del bilancio delle noci, dunque 25 milioni nel 2016 sono l'obiettivo tra sblocco del patto di stabilità e vantaggi dalla fusione con il comune di Monbaroccio. L'assessore garantisce riduzione dell'imposizione fiscale e agevolazioni per commercio e iniziative start up. Dicevamo di quell'uomo che ha minacciato di gettarsi dal balcone ieri nel quartiere di Fano 2, siamo sulla pagina del resto del Carlino che come sempre ha fotografie e quant'altro, l'andiamo a vedere, minaccia di gettarsi dal quarto piano, task force per salvarlo. La task force è composta da vigili del fuoco, polizia di Stato. Voglio parlare con il procuratore, urlava affacciato dal balcone del quarto piano di una palazzina di Fano 2 con una gamba a penzoloni nel vuoto. Mi butto di sotto, ripeteva, insultando. Nel frattempo i poliziotti che erano accorsi per farlo desistere da quell'intento. Sotto invece la crisi edilizia, edilizia in ginocchio, intanto i progetti annegano nelle carte. Secondo Bursi, l'architetto Remigio Bursi, il problema sono le regole. Per ogni comparto il 40% va destinato ad alloggi convenzionati. Destinare buona parte, questa è la sua proposta dell'ex mattatoio al PEP, alle cooperative o allo IACP. L'altra pagina del resto del carlino invece si occupa di panettoni, di dolci sfide. Il miglior panettone regionale è quello di un fanese, ovvero del maestro pasticcere Andrea Urbani, che è stato premiato a Milano ed incassa il premio e naturalmente rilancia. Si tratta di una nota pasticceria di Fano, la pasticceria Guerrino ceduta la gestione, diventerà invece un marchio. L'idea è rifornire le attività del centro Italia con prodotti esclusivamente made in Fano. Sotto invece si parla di teatro. I piccoli coristi del gruppo Incanto sul palco con Simone Cristicchi, l'attore da venerdì a domenica porta in città lo spettacolo Magazzino 18. Ancora dal quotidiano bolognese il palazzetto dello sport. Siamo a Marotta, il palazzetto dello sport torna extra large. Carloni annuncia l'avvio dei lavori, in arrivo anche nuovi parcheggi. Per il tre ragazzi serviranno un paio di mesi e 200 mila euro. A marzo il cantiere in stazione. Ancora dalla pagina di Pesaro questa volta, ancora giubileo. Giubileo al via anche nella cattedrale pesarese. L'arcivescovo Coccia ha celebrato la funzione di apertura della porta, messa in duomo gremita anche di visitatori e turisti. La cerimonia della porta santa si terrà invece domenica il programma delle iniziative. Mentre i piesaresi raccontano della loro visita a Roma, dove ieri appunto è stata aperta la porta santa in Vaticano, una città, raccontano di una città blindata, soldati anche nella metropolitana. Ancora questa volta, dalla pagina di Pesaro, altra razzia a Mondo Bici, un'auto a Riete ha sfondato una vetrina, poi hanno rubato i malviventi otto pezzi pregiati, otto biciclette molto costose. Stiamo parlando di Mondo Bici che si trova a Fermignano, in via Metauro. Vende biciclette, lo fa da 22 anni, biciclette di qualità, con clienti anche fuori provincia e addirittura fuori regione, questo per dire insomma come questo negozio abbia modelli davvero di prestigio. Ieri è stato preso di mira per l'ennesima volta e hanno rubato all'interno appunto otto biciclette molto costose. Adesso andiamo invece sul messaggero, messaggero sulla pagina delle Marche, si parla dell'infrastruttura forse più importante della parte nord delle Marche, ovvero la Fano Grosseto, regali sotto l'albero, questo è il titolo, entro Natale la fattibilità di Fano Grosseto e uscita a ovest. Aeroporto si tratta con i russi, gli annunci di Nencini, il vice ministro che ha fatto tappa a Fano l'altro giorno scuotono per il collegamento porto a 14 del capoluogo atteso da anni potrebbe profilarsi un aiuto finanziario da parte del governo. Sanzio sull'aeroporto il bando ancora non c'è ma le dichiarazioni del vice ministro riaprono lo scenario che è stato bloccato. Poi si parla anche della giornata delle Marche nel segno di Giannini, Menichelli e Giusti, poi sotto l'api la raffineria, la crisi e la sfida vinta con l'innovazione, la produzione è tornata ai livelli di 4 anni fa. L'altra pagina invece del messaggero, sempre di Nano Romano, da Pesaro, troppo caos, via lo stadio da Pantano, il comitato Masterplan boccia il piano di riqualificazione presentato da Belloni, le critiche frutto di motivazioni di carattere logistico, tecnico ed economico. Sulle nuove bollette invece, quelle del gas, subito è protesta. La bolletta è rinnovata ma arrivano i primi errori e anche le prime proteste, tutte per un motivo, la mancata segnalazione dell'autolettura del contatore. L'altra pagina invece, andiamo sulla pagina di Pesaro, la fusione, la fusione a pochi giorni da referendum, un'occasione storica per il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il TAR non boccerà il referendum, questa non è una battaglia politica ma è un'operazione a vantaggio di tutti, dice il sindaco di Pesaro che sono fiducioso, si sbloccheranno milioni di euro da utilizzare. Poi Monbaroccio non ha nulla da temere, rassicura il sindaco pesarese, manterrà la sua autonomia e farà investimenti senza precedenti. Fanno Grosseto i dubbi dei sindaci per le ruspe nelle terre di Piero, Gambini, il sindaco di Urbino, progetto condiviso con i territori coinvolti, i timori di Urbani e Mercatello per invece l'impatto ambientale. Si parla ancora del record di visitatori a Candelara dopo la ressa della fine settimana, poi sotto ancora la cronaca con la razzia a Mondobici. Andiamo a vedere adesso invece la pagina di Fanno per chiudere occhio ai giornali. Eccola qui, ospedale a Fosso Segliore, il Partito Democratico teme di rimanere con il Cerino in mano, i Democratici si sono confrontati sui possibili scenari scegliendo di procedere con Caudela, la Melina proseguirà fino al 18 gennaio quando si terrà il Consiglio con Ceriscioli. i dirigenti del partito sostengono Chiaruccia invece a Fanno, l'ipotesi del sindaco Seri, tuttavia si fa largo l'idea di non schiacciarsi troppo su questa soluzione anche perché sanno benissimo che tanto non passerà mai l'ospedale a Chiaruccia, è impossibile politicamente da realizzare. A Bellocchi rivive la tradizione dei fuochi della Madonna, l'iniziativa è le ore 18, invece, no, vediamo un po' dove hanno fatto il titolo, ma su diverse iniziative. Allora, alle ore 18 c'è un'iniziativa alla Mediateca Memo, mentre il grande falò nei pressi di Casa Bellocchi in via Einstein, questa sera alle 20 e 30, ok? Quindi è alle 20 e 30 c'è questa tradizione popolare che rappresenta appunto i fuochi della Madonna. Poi per chiudere, anche qui, minaccia di gettarsi dal quarto piano, paura a Fanno 2, i carabinieri convincono l'uomo a desistere dal gesto dopo averci parlato. Quindi a questo punto si evince che oltre la task force, oltre ad essere composta da vigili del fuoco e dalla polizia, a quanto pare appunto c'erano anche i carabinieri. Dunque davvero una task force, poi l'uomo è rientrato in casa e accettato dunque di parlare con le forze dell'ordine. È tutto, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, buona giornata e arrivederci a domani.